Buona vista al vostro ectoretico della pegnalba, è il finito, sentiamo come sei in spagnolo Eeeh tutti ragazzi, allegria, mi chiamate tutti voi, io è il calcio, il sport più bello del mondo E oggi siamo qui insieme a Luca e infatti il titolo probabilmente sarà questo Ovvero che Luca ci racconta la sua esperienza in ospedale Com'è stata questa esperienza, questa avventura, insomma, con l'ernio umbilicale tolta, tutto, vai Da schifo Però dai, dicci com'è andata, racconta un esempio E' stata brutta perché era una giornata che non passava mai Cioè veramente l'ansia, la tensione, la palpa Non si poteva mangiare, si poteva la televisione che non ci stia i canali, non ci stia niente E' incredibile, lo so, questa è una cosa molto triste, purtroppo questi sono ospedali Finale 6, vai racconta, racconta Finale 6, e dopo come ne sono venuto? E' giusto, è giusto Ecco, vediamo, vediamo Sicuro se la privacy non ti interessa va bene così, si può vedere, si può vedere sicuro Eh sì, no, no, lui, basta che dà il consenso, io sempre il consenso voglio Bene, veramente Ora, ringrazio questo colore Ok E allora ragazzi, è stato un piacere Ci vediamo presto e buona Da prima, con la lima in gioco, si va Schadina Buona, da prima Grazie